Anche nelle classi piccole, strumenti digitali e attività veloci di attivazione degli studenti, se coerenti con i risultati di apprendimento attesi e le strategie di valutazione, si rivelano utilissimi. Ovviamente nelle classi piccole è più facile valorizzare l'interazione fra pari e si apre così la possibilità di inserire, saltuariamente o periodicamente, attività più strutturate. Le tipologie di attività sono le più varie e sono pressoché infinite. Si va dalla semplice discussione alla applicazione pratica, alla ricerca e di azione di nuovi concetti e nuove idee, alla realizzazione di progetti e così via. Ma esistono strumenti che aiutano il docente a selezionare le attività più adatte fra tutte quelle possibili? Un aiuto per individuare l'attività da inserire nella propria lezione ci viene dai modelli pedagogici, che sono ricchi di stimoli anche in questa direzione. Il primo passo è individuare l'argomento sul quale si vuole attivare la classe e il criterio può essere il più diverso. Può essere l'argomento più ostico per gli studenti, il più facile o quello più noioso da spiegare. La prima cosa da fare è individuare lo stimolo iniziale dal quale partire. Può essere quindi una domanda, un problema o un'esperienza che sia sperimentata o semplicemente osservata. Immaginiamo di partire presentando un problema. Seguendo il modello del problem based learning, dopo la presentazione del problema da parte del docente, si può immaginare di lanciare un'attività a gruppi nella quale gli studenti destrutturano il problema e individuano le conoscenze che servono per risolverlo. L'attività può poi proseguire con la ricerca di informazioni o l'approfondimento, esplorando testi o risorse digitali tra una lezione e l'altra oppure con un'attività durante la lezione. Al termine della ricerca e dell'approfondimento, gli studenti poi, sempre a gruppi, sviluppano le soluzioni più promettenti e le presentano in classe. Allo stesso modo, possiamo farci ispirare dagli altri modelli pedagogici, modificando, a seconda del contesto e degli obiettivi, alcune variabili come la composizione dei gruppi, l'output da richiesto, oppure inserendo elementi di gamification. Nell'esempio che abbiamo appena visto, tutte le fasi del modello pedagogico sono rese in modo attivo, coinvolgendo gli studenti divisi in gruppi. Questo, ovviamente, richiede un maggiore investimento di tempo rispetto ad una lezione frontale. Non è però necessario che tutte le fasi vengano rese in modo attivo. Il modello pedagogico può essere usato anche come filo narrativo della lezione. Il docente presenta il problema, mappa le conoscenze necessarie e passa i contenuti in modalità frontale, lasciando poi all'attività di gruppo lo sviluppo delle soluzioni e la presentazione in plenaria o tra pari. In quest'ottica light, i modelli pedagogici possono aiutarci a individuare attività da inserire anche nelle classi grandi. Le varie fasi del modello possono guidare la struttura narrativa e si possono ipotizzare attività brevi a stimolo o supporto delle varie fasi e alcune attività più selezionate che siano ovviamente sostenibili con numeri grandi, proponendo, ad esempio, un lavoro di gruppo da portare avanti tra una lezione e l'altra, o affidando un ruolo chiave alla revisione tra pari, revisione guidata da rubriche di valutazione accuratamente progettate.